Molto tempo fa mio padre mi chiese Norma, a te piace scrivere racconti, vero? Un giorno quando sarai grande potrai raccontare la storia della nostra famiglia. Solo allora sarai in grado di capire tutto quello che ci è accaduto e perché. Cosa vuoi diventare da grande? Un pastore, credo. Tu che vuoi diventare? Pescatore o professionista? Non è un lavoro. Non è un lavoro. No! Sara, ci sono tre posti in cui non si può tardare in chiesa, al lavoro e a pesca. Stai facendo sul serio. Sono innamorato di Jessica Harris. Con tutti i pesci che ci sono nel fiume. Non sono come lei. Viene arrestato spesso. Non è salutare trovarsi in grado con i padaviti. Perché sono quelli che più hanno bisogno del nostro niente? Da non accettare. So come entrare nella storia. Vorrei usare un po' della tua fortuna. Mio Dio, cosa avete fatto? Sei già pieno di debiti fino al collo. Va tutto bene. Andrà tutto bene. No! 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 Mio Dio. Grazie.